Sono una delle tipologie di esche che io utilizzo quando voglio prendere serra, barracuda, lecce. Fino a me ne ho giubilato un cazzo, però prima o poi so che arriverà la mia prima cattura. Questa settimana sono andato a pescare tre volte, una volta a Sarenno, una volta sul porto, una volta sulla scogliera. Ieri sono andato di nuovo nel porto, mi sono ritirato alle sei, non ho preso un cazzo, mannaccia la morte. Sto pieno sul friddo praticamente, ma manca una mangiata, una toccata, niente. Nel frattempo, nel mese scorso ho messo a parte un po' di soldi, ho preso un mulinello nuovo con una canna particolare per lo spinning, mulinello Shimano Nashi, catalogo giapponese, canna sele, due metri e dieci, long jerk, minnov, walking the dog, e alcune tipologie di esche che sono di tipo siliconico, che fanno un movimento molto attraente nell'acqua, come sta scritto sul libretto. Ottimo per la spicola, ottimo per il serra. Ma che non è nessuno, non è nessuno con queste cose, sono pieno di manguo, cazzo. Uno che va a pescare, non è, mi ha detto, no, tu devi far fare il movimento, hanno una tipologia di pesca mia, e che tu devi dare vita a questo pezzettino di plastica che sta nell'acqua, grazie alle cercate della canna e del movimento che deve fare nell'acqua, che deve essere attraente, perché il serra difende il territorio. Sto studiando un sacco, sto leggendo un sacco, e ho fatto tutto, attraente, cercate, ma a canzio, niente proprio, niente. Che l'altra volta, se vieni i pesci di DuPort, che si vedeva che cresceva nella forza, che si buttava la bacia e piava che in mano, vado a buttare la canna. Eh, ma no, devi, ma ora mi venghi a amare, mi pieghi, mi fuorchi, che in mano. Mo' è uscito un'altra cosa, in settimana bisogna andare a foce sele, perché i spinners stanno al foce sele, tra il fiume che sbucca nel mare, se è così ho capito. E diciamo, dovrei prendere qualcosa e dovrei riuscire a fare qualche cattura, come mi ha detto il mio negoziante di fiducia, di battipaglia, mare e cielo, il migliore in tutta la Campania, e mi ha fatto comprare un sacco di cose, tra cui pure lo scafandro, che serve ad andare nelle onde e cercare di lanciare il Minov sotto le onde, in maniera tale da fare le catture. Sì, non piglia niente, ma anche questa settimana va a cantare un negozi e ci chiama Upisconi in nave trata.